Due interventi hanno visto impegnato il soccorso alpino di Asiago in altrettanti incidenti. Erano quasi le 12.30 di oggi 13 luglio, quando la centrale del 118 ha ricevuto la prima chiamata d'emergenza. Un ciclista intento ad affrontare con la sua manta on-bike la discesa che da Bocchetta Portole porta a Malgalarici è caduto rovinosamente a terra. La moglie che si trovava con lui ha immediatamente lanciato l'allarme. Una squadra ha raggiunto lo sfortunato 71enne AP residente a Grissignano di Zocco. Il ciclista ha sbattuto la spalla e è stato soccorso anche dai carabinieri forestali di Roana. Dopo essere stato caricato a bordo del fuoristrada è stato accompagnato all'ospedale di Asiago. Durante l'intervento è scattata una seconda emergenza in comune di Gallio. Conclusa la prima missione la squadra si è spostata assieme ai carabinieri forestali verso cima Mandriolo dove un escursionista in passeggiata insieme alla moglie e amici scendendo ha messo male un piede riportando una sospetta frattura della caviglia. Dopo essere avvicinati il più possibile in jeep per poi proseguire a piedi i soccorritori sono arrivati al 69enne di Bresanvido che hanno stabilizzato il piede. Una volta imbarellato l'infortunato è stato trasportato il mezzo e da lì a rifugio Larici per poi dirigersi autonomamente al pronto soccorso. Grazie!